che resta malattia che mi è venuta su fatto che non voglio avere la gente chi mi ha miscata chi me l'ha mettuta sta frevanguola che mi ha dato un miente chi che solo parla si dice che sono pazza o sono fissata su quel tipo che hanno perso la bussola per una femmina o sono risparata chi tengo i soldi sono voluto bene ma la mente che cosa? e vengono spie chi mi ha miscata questa malattia sta frevanguola che me l'ha mettuta io parlo solo, credo ma mi sono una folla gente che non venga sento parlare e rispondere dicendo sempre stessa fissaria ma fosse questa la freva e la malattia grazie a tutti